ciao a tutti sono Laura Antichi vi voglio presentare Anchor per creare podcast facilmente Anchor è un'applicazione messa a disposizione da Spotify per realizzare podcast è disponibile per pc e come app per Android e iOS vi consiglio di andare nella casella di ricerca di Google di scrivere Anchor il primo risultato che trovate è quello giusto Anchor questo è il sito dovreste poi a registrarvi con Get Started vi chiederà anche di dare un nome al vostro podcast ma dopo vediamo oppure fate il sign in io farò il sign in volevo farvi vedere che in fondo a questa finestra di presentazione potete trovare la possibilità di collegarvi all'app store per scaricarlo per iOS e per scaricarlo per Android da Google Play ora andiamo e vado in sign in perché sono già registrata e faccio il login mi riporta quindi alla dashboard come vedete ho gli episodi l'altra voce quella degli episodi che ho pubblicato che sono qui dalla dashboard vado di nuovo in dashboard poi faccio in setting mi fa andare posso andare in update setting e in update setting a voi vi chiederà di farlo io l'ho già fatto di mettere il nome il podcast name ho messo come nome il mio nome perché è un podcast personale il voi metterete il nome che meglio conviene ad esempio potrebbe essere un podcast dell'istituto podcast della classe tal dei tale eccetera date una descrizione al vostro podcast e poi date a update cover art e quindi a mettere l'immagine ho messo l'immagine di me e dal vostro pc mettete un'immagine che rappresenti proprio il vostro podcast date un scegliete un podcast category io ho scelto istruzione dalla casella dal menu a discesa e la lingua sempre dal menu a discesa tra le advanced options lasciamo il contenuto in chiaro l'explicit per i contenuti per adulti lasciamo le altre impostazioni così come sono poi c'è l'account settings con il display name ho messo il mio nome la mia mail e il mio website mi da il custom url l'antichi perché l'avevo chiamato l'antichi e poi nel profile color posso scegliere il colore del mio podcast del fondo del mio podcast e io ho scelto il blu però per scegliere il colore devo mettere un codice per trovare il codice vi metterò il sito da cui potete poi trovare il codice del colore che meglio si addice al vostro podcast se lo volete sempre cambiare quindi lo copiate questo codice e poi lo incollate in questa casella le connections sono al mio account twitter e instagram al mio account youtube e facebook posso anche delete account se non fossi soddisfatto di questo account e volessi eliminarlo dopo aver fatto questo fate save e quindi potete ritornare alla vostra dashboard posso vedere view public site il mio quindi sito vedete che ho messo il fondo azzurro bluette e quindi è questo che comparirà il mio questo è il mio podcast con gli episodi sotto che ho che ho poi creato vado di nuovo comunque nella dashboard e vado a creare un nuovo episodio new episode poi potrei cliccare nella parte a destra sul click to upload or drag file here cioè per prendere un file già registrato dal file audio dal mio computer oppure registrare ho un record una linguetta del record della library per riusare un audio già fatto ho della musica che posso scaricare da spotify e poi ho la possibilità di inviare un messaggio per gli episodi e ho le transition che mi servono per mettere degli effetti nella mia registrazione vado a registrare un breve messaggio record start recording now sotto vi da l'input sceglierete il io scelgo il predefinito sceglierete quello più adatto per il vostro computer e vado in start recording now questa è una prova di registrazione e mi serve per presentare come un tutorial questa applicazione che si chiama Anchor stop recording ecco vedete che mi sta elaborando il quindi processando la registrazione ha finito di processare la registrazione sentiamo questa è una prova di registrazione e mi serve per presentare come un tutorial questa applicazione che si chiama Anchor stop ok posso aggiungere della musica come potete vedere di background add background music posso aggiungere attraverso la scelta di una categoria vabbè lascio calmo va bene e scelgo una qualsiasi di queste musiche poi voi sceglierete quella che vi piace scelgo questa ok e faccio appli quindi la applico al mio alla mia registrazione ha processato anche la musica vado a sentire vedete che qui ho l'icona che mi indica che ho un background musicale andiamo a sentire questa è una prova di registrazione e mi serve per presentare come un tutorial questa applicazione che si chiama Anchor stop vedete che poi dai tre puntini posso fare il download dell'audio file o eliminare definitivamente questo file io invece questo file lo aggiungo add to episode che è qui oppure trascinandolo vabbè add to episode ma ora vado anche ad aggiungere una transition perché avevo la possibilità del record di una library di avere la musica come vi dicevo Spotify e il messaggio come abbiamo visto prima le linguette e poi ho la possibilità di mettere una transition mi dà quindi questa opportunità io scelgo Eclue e quindi lo metto nell'episodio voglio che questa mi compaia all'inizio e poi metto un altro Eclue un altro Eclue alla fine dell'episodio ora posso andare a vedere il preview episode questa è una prova di registrazione e mi serve per presentare come un tutorial questa applicazione che si chiama Anchor stop ecco quindi avete visto che ho realizzato la registrazione con la musica in background con una transition all'inizio e alla fine vado in save episode e darò un nome a questo episodio bisogna compilare quindi introduzione qui sotto scriverò questa è una prova e ho la possibilità anche di mettere un link eccetera e poi potrei anche dilazionare la data di pubblicazione o now oppure dal calendario posso decidere di posticiparla poi ho il customize customize this episode devo mettere il numero della season della number e quindi metto 10 il numero dell'episodio metto magari 6 per mettere full episode e poi se il contenuto è in chiaro o per gli adulti lascio in chiaro allora vado a poi scegliere in rapporto al mio episodio l'immagine adatta questa era l'immagine del mio podcast quindi faccio upload new episode art metto qualsiasi immagine vediamo una qualsiasi che ha scelta questa va bene voi ne metterete una adatta alle vostre esigenze ecco save ecco che ho aggiunto quindi l'immagine ok tutto a posto e vado allora in publish now quindi introduzione questa è una prova e poi avete qui sotto gli episodi segmenti degli episodi e poi la possibilità di riascoltarlo questa è una prova di registrazione e mi serve per presentare come un tutorial questa applicazione che si chiama Anchor stopper se vado ora in episodis posso trovare il mio episodio di introduzione che ho pubblicato posso nei tre puntini vedere dettagli dell'episodio copiare il public link all'episodio download episodio e posso anche cancellare l'episodio apriamo apriamo il nostro episodio mi da quindi i dati analitici la performance mi da poi quello che abbiamo visto prima quindi i segmenti dell'episodio e la possibilità di riascoltarlo vado di nuovo in dashboard in setting abbiamo già visto tutto quello che dovevamo vedere mi da la possibilità poi di condividere il mio episodio su facebook su twitter e di copiare il link o di copiare il codice embed vado nella dashboard e vado qui a vedere il view public site view public site e vediamo che è stato messo il segmento l'episodio introduzione è stato aggiunto ritornando in dashboard posso da setting poi vedere la disponibilità del podcast e qui vedete che il podcast è disponibile su spotify questo indirizzo e su anchor però anche la distribuzione dei podcast e che posso questi sono i siti di distribuzione cui mi posso collegare ok quindi tu submit ad esempio tu apple podcast dovrei usare podcast connect quindi copiando copiando il link ricordatevi che vi da per quanto riguarda la distribuzione il feed di rss che vi servirà per copiarlo sui siti di distribuzione ecco queste sono le istruzioni base per creare un podcast con anchor ecco sono ritornata nella dashboard vi faccio finisco con l'immagine del mio podcast e dei suoi episodi di ho c ho 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 Grazie a tutti